io penso che non si possa quantificare la rabbia che sta prendendo il sopravvento su di me da ieri sera io prenderei tutta la combricola prenderei quel maledetto di ieri sera e glielo infilerei sapete dove quel grandissimo pezzo di ladro maledetto noi siamo il biavoli rosso neri campione d'italia bentornati sul canale mi raccomando iscrivetevi lasciate like fatemi sapere cosa ne pensate perché tanto è tutto gratuito la risposta a quello che è successo ieri sera penso che sia scritta nella copertina di questo video nell'immagine di questo video uefa mafia provate a farvi una domanda e datevi una risposta come mai la uefa non vuole la superlega una squadra come il milan una squadra che torna in europa dopo tanto tempo una squadra che non può spendere milioni e milioni sul mercato ma che comunque è a pari col bilancio comunque non ha debiti o almeno se ne ha ne ha pochissimi da molto fastidio alla uefa perché non può andare a fare i suoi giochetti merdosi allora cosa succede meglio mandare avanti una squadra che magari ha molti debiti ma che spende milioni e milioni dove puoi andare comunque a fare i tuoi giochetti e questo è il problema noi possiamo stare qua a parlare quanto volete di dna champions possiamo stare a parlare che l'europa è casa nostra possiamo avere la spinta del pubblico meraviglioso come ieri sera possiamo riempire gli stadi non serve a nulla contro il sistema non ti puoi mettere perché tanto la vincono loro non avete ancora capito è inutile a questo punto inutile questo punto io spero spero che domani si faccia la superlega così finisce sta pagliacciata perché tanto inutile andare a giocare la champions league l'anno scorso te ne hanno combinato in tutti i colori quest'anno si replica un arbitro che dopo 20 minuti fa una roba del genere è stato mandato apposta ragazzi è stato ma perché si sapeva che il milan in casa poteva dar filo da torcere al celsi il milan nei primi 20 minuti la sua partita la stava facendo e anche bene non che qualcuno mi ha scritto perdovate lo stesso ma chi cazzo ve l'ha detto a voi che il milan comunque stava andando bene nei primi 20 minuti stava gestendo bene la partita si era reso anche pericolo ma che cazzo state dicendo non potete parlare di una partita che non è mai iniziata io da oggi in poi non risponderò più a dei commenti stronzi ma stronzi perché uno che mi scrive così a prescindere neanche il rigore c'è l'espulsione c'è godo tu ricalcio non capisci un cazzo tu ricalcio non capisci niente quindi al messaggio non rispondo neanche tomori tomori appoggia solo la mano così la appoggia non lo strattona non lo tira appoggia solo la mano sul giocatore del celsi tanto che il giocatore va a finalizzare va a concludere l'azione l'albitro pezzo di maledetto lascia continuare l'azione per la regola del vantaggio il giocatore del celsi finisce l'azione sbaglia perché tatarusano la para e tu cosa fai prima dalla regola del vantaggio poi dai il rigore che non esiste perché l'ha solo sfiorato e dall'espulsione cioè questo è regolare allora ogni domenica vedremo centinaia e centinaia di rigore perché in area di rigore sui calcio d'angoli o sulle punizioni comunque il gioco da fermo si strattonano si tirano si abbracciano si spingono allora sarebbero tutti i rigori cioè tu mori appoggia appena appena la mano tanto che l'albitro dà il vantaggio lascia proseguire e lui va a finalizzare poi sbaglia ma di che ma se giocate a calcio solo la playstation ma non scrivete certi commenti ogni tanto bisogna levarsi la maschera togliere la maglietta della propria squadra ed essere obiettivo perché quando alla juve gli annullarono il gol della salernità contro la salernitana che era regolare era clamoroso io ho fatto il video dicendo godo perché avete perso ma la partita l'hanno rubata quindi preferisco gente che mi ha scritto ieri sera io sinceramente preferisco che mi hanno scritto godo avete perso basta appunto finita lì non mi venite a parlare del rigore non mi venite a parlare dell'espulsione perché è clamoroso no anche gente che odia questo canale interista pensate un po gente che odia questo canale ed è interista è venuta qua a commentare a fare video dicendo questa sera hanno ragione è clamoroso è scandaloso ma di che cazzo stiamo parlando dai